Salve, oggi vi parlo di un argomento molto interessante, molto rilevante per me, che è una questione che riguarda la fisica del plasma, in particolare la fusione nucleare a confinamento magnetico. È un argomento di grande rilevanza soprattutto perché è uno dei principali possibili ostacoli per il funzionamento dei reattori a fusione. Prima di tutto ITER, che è questo reattore a fusione sperimentale che verrà costruito nei prossimi decenni. L'argomento è quello degli elettroni relativistici, quindi altissime energie, che vengono detti nel gergo diciamo così, nell'ambiente elettroni runway, che significa elettroni che sfuggono via, per ragioni che vi dirò in seguito. È un argomento importante di cui mi sono occupato e cui mi occupo ancora, che ha moltissimi aspetti, diciamo moltissimi sotto argomenti di studio, quindi esistono molti team, molti laboratori nel mondo che si occupano di vari aspetti di questo problema e io oggi cercherò di darvi una panoramica, una visione un po' insieme globale di questa cosa, per quanto ho potuto capire, per quanto ho potuto studiare in questi anni che appunto ho studiato l'argomento e quindi ho preparato delle slide in cui entro un po' più nel dettaglio delle varie cose. Come ho detto, l'argomento è quello degli elettroni relativistici, che vengono detti nel gergo, diciamo nell'ambiente, elettroni runway, che significa elettroni che sfuggono via, per ragioni che verranno chiare più in seguito, quando spiegherò come si originano. Innanzitutto questo è un argomento che entra nel contesto della fusione nucleare a confinamento magnetico, in particolare nei tokamaks. Per chi non conoscesse questo argomento fornisco qui una breve introduzione. Innanzitutto la questione consiste nel ottenere un processo di fusione nucleare all'interno di un plasma, che è questo gas ionizzato ad alta temperatura, che viene confinato tramite campi magnetici all'interno di dispositivi toroidali, quindi di forma toroidale, che vengono detti tokamak. Il nome è un acronimo che significa camera toroidale con campi magnetici. Il processo, diciamo così, il principio tramite cui vengono confinati questi plasmi è quello per cui le particelle cariche seguono le linee di campo magnetico, a meno di una piccola deviazione che è data dal raggio di l'armor, che di solito è molto piccolo. Nei tokamak il campo magnetico principale è generato da bobine toroidali, che queste immagini sono queste blu. Questo campo magnetico è diretto nella direzione di questa freccia, quindi si avvolge intorno all'asse maggiore di questo tokamak. In aggiunta a questo viene indotta una corrente in direzione toroidale variando il campo magnetico in questo soledonice centrale, questo central solenoid. Questa corrente è necessaria per innescare, diciamo, per provvedere a un certo riscaldamento iniziale del tokamak, ma anche per fornire un'ulteriore componente del campo magnetico, che è il campo magnetico poloidale, che si avvolge in questa direzione. La conseguenza è che il campo magnetico totale ha forma elicoidale, quindi si avvolge a elica intorno all'asse magnetico, che è il centro della camera. Siccome le particelle seguono le loro traiettorie e seguono le linee di campo magnetico, ne consegue che anche le loro traiettorie sono elicoidale, quindi si avvolgono a spirale, e questo ha l'effetto di compensare dei moti di drift, dei moti di deriva, che porterebbero altrimenti le particelle a sfuggire rapidamente in senso verticale. Quindi queste eliche, queste traiettorie elicoidali compensano i moti di deriva e le particelle risultano confinate. Come ho detto, la corrente fornisce un mezzo di riscaldamento principale, che è quello ohmico, quindi per effetto ohm. Tuttavia questo riscaldamento non è sufficiente a raggiungere le temperature necessarie per la fusione, è quindi necessario fornire un riscaldamento aggiuntivo, che può essere nella forma di particelle, quindi col metodo MBI, Neutral Beam Injection, oppure onde elettromagnetiche, che possono essere onde di ciclotrone degli elettroni, ACRH, di ciclotrone degli ioni, ACRH, o lower hybrid, che sono a una frequenza intermedia. E infine, quando la temperatura è sufficientemente alta da inniscare la fusione, il riscaldamento si autosostiene, quindi il plasma si automantiene tramite il calore prodotto dalle particelle alfa che si producono nella reazione. Quindi questo è il contesto in cui ci muoviamo, il contesto della fusione nucleare a confinamento magnetico. Adesso veniamo a alcuni problemi che possono insorgere. Innanzitutto il campo magnetici forniscono il confinamento e questo confinamento consiste in un equilibrio, sostanzialmente un equilibrio tra le forze di pressione del plasma e la forza, diciamo, del campo magnetico. Tuttavia questo equilibrio può essere instabile, infatti ci sono una serie di instabilità che possono compromettere questo confinamento e nel caso in cui queste instabilità, che sono di tipo elettromagnetico, portino a una perdita completa di controllo del plasma, si parla di disruzioni o disruption. In poche parole le disruzioni consistono in una perdita di controllo, una perdita di controllo appunto sul confinamento del plasma e quando questo avviene l'intera colonna di plasma, quindi l'intero volume di plasma, può sfuggire via e raggiungere le pareti del tokama, quindi muoversi senza controllo. Questo ha l'effetto di depositare, quindi rilasciare, grandi quantità di calore e di particelle, quindi grandi flussi di particelle e di calore sulle pareti, che causano evidentemente dei danni e inoltre generano anche grandi forze elettromagnetiche a causa delle grandi variazioni di campo magnetico e di corrente e possono anche distruggere il tokama, che è nei casi peggiori. Queste disruzioni sono una classe vasta di processi che possono avere origini e per cause diverse. Di solito sono tutte perturbazioni elettromagnetiche, per la verità più magnetiche che elettriche, che possono avere nomi diversi a secondo della loro fenomenologia. Per esempio ci sono le stabilità verticali che portano a muoversi l'intera colonna di plasma verticalmente verso l'alto o verso il basso. Ci sono i locked modes o modi bloccati, che sono associati a sostanzialmente instabilità o perturbazioni che tenderebbero a ruotare nel plasma, ma che possono rallentare e eventualmente bloccarsi. Quando questo avviene portano a gravi, diciamo, a crescite indiscriminate e incontrollabili. E infine i modi kink, che sono modi di piccola lunghezza d'onda, o meglio di grande lunghezza d'onda, quindi di piccolo vettore d'onda, che però sono globali, quindi coinvolgono l'intero plasma. Quindi ci sono una classe di fenomeni che possono portare a queste disruzioni. Per quanto riguarda la evoluzione temporale di queste disruzioni, possiamo individuare due fasi particolari. La fase di thermal quench, che sarebbe una rapida crollo della temperatura, che segue proprio dall'apertia di confinamento, quindi energia e particelle vengono rilasciate. Questo causa un rapido raffreddamento della colonna di plasma, quindi l'intero volume di plasma, e questo avviene su tempi scala molto rapidi, che sono dell'ordine dei millisecondi. In seguito avviene anche quello che viene detto current quench, che è un crollo della corrente. Questo però avviene innanzitutto per l'aumento di resistività nel plasma, perché con l'aumento, con la diminuzione della temperatura, la resistività aumenta e quindi la corrente deve diminuire. Questo però non può avvenire su tempi altrettanto rapidi, infatti i tempi scala di questo processo si misurano nell'ordine dei secondi o comunque centinaia di millisecondi. Il fatto che ci sia un tempo scala così diverso è legato a una conservazione di una quantità fisica, che vi dirò in seguito. Il fatto è che a causa della differenza in tempi scala, la permanenza, diciamo, l'esistenza di una corrente residua in un plasma a bassa temperatura fa sì che si genere un grande campo elettrico, questo in conseguenza della legge di Ohm, e questo ha un effetto sulle particelle cariche, perché i campi elettrici accelerano le particelle cariche. Qui ho deciso, diciamo, di mostrarvi un esempio di una simulazione, di una disoluzione tratta da questa presentazione, da questa pubblicazione. Questa è stata ottenuta con un codice che viene detto JOREC, che è un codice magneto-idrodinamico che evolve il plasma e il campo magnetico. Quello che succede è che si rompe la struttura delle superfici magnetiche, che sono superfici di campo magnetico costante che servono appunto a confinare il plasma. La conservazione dell'elicità magnetica, che è una quantità che è in qualche maniera legata alla topologia delle linee di campo, impedisce che la corrente decresca in tempi altrettanto rapidi, e quindi rimane una quantità di corrente, diciamo così, e quindi il current quench, la decrescita di corrente, avviene su tempi più lunghi. E questa è un'immagine, quella sulla destra, che rappresenta le sezioni di Poincaré, che sono quindi intersezioni delle linee di campo magnetico con un piano verticale, nella fase appunto dopo il thermal quench. quindi si vede che esiste una vasta regione di plasma dove le linee di campo sono caotiche, quindi sono completamente random, e una zona centrale in cui sopravvivono delle superfici magnetiche, anche se sono molto distorte. E veniamo finalmente agli elettroni rane, che sono un argomento principale. Quindi, riassumendo quello che ho detto, durante il thermal quench, che è il raffreddamento della colonna di plasma, aumenta la resistività, per via della maniera in cui la resistività dipende dalla temperatura. Come ho detto, la corrente non può diminuire sullo stesso tempo scala, quindi altrettanto rapidamente, e quindi questo porta a un grande campo elettrico toroidale, quindi nella direzione della corrente, che ha l'effetto immediato di accelerare gli elettroni ad alte energie. Quindi, essenzialmente, gli elettroni ranei nascono in primo luogo da questo fenomeno qua. Il fatto che gli elettroni possano crescere ad energie molto elevate è dovuto al fatto che le collisioni, quindi la frequenza di collisione, diminuisce all'aumentare della velocità. Per la verità, qui ho riportato di nuovo la temperatura, ma sarebbe più corretto scrivere in termini di velocità, perché in questo caso noi stiamo parlando di particelle che sono sopratermiche, quindi la loro energia è di gran lunga superiore alla temperatura, che è una velocità media, essenzialmente. Quindi, essenzialmente, maggiore è la velocità delle particelle, minore è la frequenza di collisione, quindi non è più possibile frenare essenzialmente la loro accelerazione. E quindi gli elettroni vengono portati ad alte energie, e li chiamiamo quindi elettroni runway, proprio perché sfuggono via, senza controllo. Ora, gli elettroni runway si possono generare in diversi modi. Il modo principale è un meccanismo a soglia, per cui essenzialmente il campo elettrico che li accelera deve crescere al di sopra di una certa soglia. Questo viene detto meccanismo di Dreiser, dal nome dell'autore che ha calcolato per la prima volta questa soglia, e quindi quando il campo elettrico sale al di sopra di questo valore di soglia, viene detto campo di Dreiser, gli elettroni vengono portati nella regione runway, diciamo così, e quindi da quel momento in poi non possono essere più frenati. Un altro processo che diventa importante, soprattutto nel thermal quench, è quello che viene detto meccanismo hot tail, o coda calda, ad alta temperatura. Questo avviene a causa dell'incompleta thermalizzazione, quindi rilassamento verso l'equilibrio, della distribuzione di velocità degli elettroni durante il thermal quench, quindi sopravvive sostanzialmente nella distribuzione degli elettroni una frazione ad alta energia, che quindi non può essere frenata. E infine, dopo che si è creata una certa popolazione di runway nel plasma, il loro numero può aumentare esponenzialmente nel tempo attraverso collisioni. Questo viene detto meccanismo avalanche o avalanga, perché essenzialmente un elettrone causa un altro elettrone sul suo cammino di entrare, diciamo ad entrare nel regime ranegui, quindi sostanzialmente c'è un aumento esponenziale del loro numero. E questo può avvenire solo se esiste già una certa popolazione di elettroni ranegui nel plasma, ed è sostanzialmente dominante ad alte energie. Quindi qui riassumo un attimo fornendo magari qualche dettaglio in più, questi principali meccanismi di generazione. Allora, abbiamo detto che il meccanismo principale è il meccanismo Dreiser, che avviene quando la forza elettrica, dovuta al campo elettrico, supera la forza di collisione. E questo campo di Dreiser è stato calcolato con questa particolare espressione, e la frequenza che entra qui è la frequenza di collisione relativistica tra elettroni, che è importante anche nel seguito, perché questo determina proprio le collisioni tra elettroni relativistici. Il meccanismo hot tail, a coda calda, avviene a causa di questa fase transiente, fase, diciamo, intermedia, temporanea, in cui gli elettroni a alta energia non hanno ancora avuto tempo di termalizzare, quindi di rilassare verso l'equilibrio termico. Quindi costituiscono un ramo caldo, diciamo, una coda a alta energia della distribuzione, mentre invece la massa, quindi la grande quantità di elettroni, è ancora maxwelliana, quindi una distribuzione di equilibrio che tende a rallentare. E infine il meccanismo avalanche o avalanga è questo incremento esponenziale nel numero di runaway provocato da collisioni tra elettroni runaway, che sono già presenti nel plasma, e elettroni termici, quindi a temperatura, diciamo, di equilibrio. Questo è un processo esponenziale, viene mostrato qui, quindi la variazione nel tempo della densità di runaway, è proporzionale alla densità di runaway stessa, attraverso questo coefficiente di proporzionalità, che dipende da questo campo elettrico normalizzato, e questo tau, questo tempo che entra qui, è l'inverso della frequenza di collisione relativistica, che è la stessa che abbiamo visto qui. Adesso c'è un altro fenomeno che ho affrontato, che diciamo che mi ha interessato, ed è un eventuale intrappolamento di elettroni all'interno di tubi di flusso, che sono sostanzialmente tubi costituiti da linee di campo magnetico, che possono quindi consentire agli elettroni di propagarsi a lungo senza sfuggire via. Il contesto in cui questo fenomeno viene studiato è questo. Allora, in seguito al collasso della struttura di campo magnetico durante il thermal quench, che come ho detto è una perdita di confinamento del plasma, la conservazione dell'elicità magnetica, che è questa quantità topologica, impedisce la completa perdita di corrente di plasma su tempi scala corti, e questo determina la differenza nei tempi scala tra il thermal quench e il current quench. Dopodiché, a causa della permanenza di una certa corrente residua, le superfici di flusso magnetico, quindi i tubi di flusso magnetico, si possono riformare e questo può portare alla nascita, all'insorgere, di flussi di tubo non assi simmetrica, o tubi di flusso, scusate, che possono essere nella forma di isole magnetiche, che sono questo tipo di strutture coerenti, appunto, che hanno struttura elicoidale e che nascono sulle superfici magnetiche. Queste possono, in principio, confinare una parte di questi elettroni relativistici e questo fa sì che gli elettroni non sfugano via rapidamente a causa della perdita di confinamento e possano raggiungere alte energie, appunto. Oltretutto, nel caso in cui siamo invece in una situazione stazionaria, quindi in assenza di disiluzioni, quindi di perdita di confinamento, gli elettroni possono comunque essere accelerati all'isopra della soglia a causa della loop voltage o, diciamo, tensione elettrica, che è presente comunque durante la scarica, anche nella fase detta flat top, che è la fase stazionaria, per mantenere la corrente. Quindi, anche in queste circostanze, parte degli elettroni possono essere accelerati e qualora ci siano delle isole magnetiche o altre strutture, questi possono rimanere intrappolate all'interno di queste strutture magnetiche. Qui vi mostro anche un esempio di come si può calcolare, di come si può stimare una larghezza critica di soglia, diciamo, per queste isole magnetiche, per queste strutture coerenti, affinché confinino degli elettroni di una certa energia. E questo si può fare con un metodo abbastanza solido, che consiste nell'imporre la conservazione del momento canonico elicoidale, momento angolare canonico, che si può scrivere in funzione dell'impulso delle particelle e della funzione di flusso magnetica. Questo ovviamente è un calcolo semplificato, che per avere delle conferme richiederebbe delle simulazioni numeriche. Comunque il calcolo è abbastanza semplice, imponendo la conservazione di questa quantità, uno ottiene una valore di soglia per queste isole magnetiche, che è proporzionale a Q, che è il safety factor, un fattore di sicurezza che ha un ruolo importante nella stabilità, moltiplicato per la radice di ρΦ, che è un equivalente di un raggio di Larmor, però calcolato con la velocità parallela, anziché con quella perpendicolare, diviso Q', che è la derivata di Q rispetto allo spazio. Quindi questa è una formula che può essere utile per avere una stima della grandezza di queste isole. Dopodiché abbiamo detto che gli elettroni runaway essenzialmente sfuggono al controllo perché vengono accelerati a energie arbitrariamente alte, perché non sono più frenati dalle collisioni. Tuttavia possiamo immaginare che ci siano dei meccanismi che comunque impediscono a questi elettroni di sfuggire a energie arbitrariamente alte. In particolare uno può ricavare una lunghezza caratteristica che è un raggio medio di drift radiale, quindi di shift, diciamo di deviazione delle particelle dalle loro orbite, a causa dei moti di deriva. Questo si può ottenere imponendo stavolta la conservazione del momento canonico toroidale, un momento angolare toroidale, che si calcola in maniera analoga a prima, però questa volta nell'ipotesi di un campo magnetico asimmetrico, quindi senza perturbazioni. Il calcolo è altrettanto semplice, porta al calcolo di questo delta, che è il nostro average radial drift, che è proporzionale a q, che è lo stesso safety factor di prima, moltiplicato per questo ρφ, che è questo analogo del raggio di Larmor, calcolato con la velocità parallela, senza radice quadrata, quindi vedete che ha un diverso scaling con l'energia sostanzialmente. Ora si vede che per i dispositivi piccoli, per i tokamak piccoli, come sono quelli la maggior parte dei tokamak esistenti al momento, le perdite dovute a questo raggio di drift finito limitano l'energia dei ranoi ad alcuni mega elettron volt, quindi nei dispositivi piccoli questo è il principale meccanismo che limita l'energia e pochi mega elettron volt sono comunque energie relativistiche per gli elettroni, ma sono ancora relativamente piccole. Invece nei dispositivi grandi, dove il raggio del tokamak è abbastanza grande, il meccanismo limite è dato da un altro fenomeno, che è la radiazione di sincrotrone. La radiazione di sincrotrone è una emissione di radiazione, quindi di luce, che avviene lungo la direzione del moto delle particelle ed è dovuto al moto di rotazione con un raggio uguale al raggio di l'armor e frequenza uguale alla frequenza di ciclotrone intorno alle linee di campo magnetico. Il fatto che gli elettroni siano relativistici fa sì che il cono di emissione di questa radiazione sia molto stretto nella direzione del moto, quindi ha un aspetto di questo genere, quindi anziché costituire dei lobby simmetrici rispetto alla loro posizione, hanno un profilo che è abbastanza stretto nella direzione opposta al loro moto e molto largo, quindi esteso nella direzione parallela, con la conseguenza che la radiazione di sincrotrone viene persa quasi esclusivamente nella direzione parallela. Questa radiazione diventa significativa per energie molto alte, superiore per esempio ai 20 MHz, che significa che gli elettroni sono ultra relativistici, ed è significativa soprattutto per i dispositivi grandi, perché solo in questi dispositivi si possono raggiungere queste energie. Adesso c'è tutta una serie di studi che vengono effettuati, sia dal punto di vista teorico sia sperimentale, per mitigare o sopprimere questo beam, questo raggio, diciamo così, di runway, per le ragioni che, diciamo, per la ragione essenziale che sono una, costituiscono un pericolo per l'integrità del dispositivo. Esistono degli approcci che consistono nell'uso di perturbazioni risonanti applicate esternamente, vengono dette resonant magnetic perturbation o RMPs. Queste hanno l'effetto di ridurre la durata, diciamo, del decadimento della corrente che è associato alla presenza di questo beam di runway, e quindi hanno l'effetto di aumentare quello che viene detto current decay rate, o rate di decadimento della corrente. È stato osservato che l'effetto di mitigante, diciamo, è proporzionale all'ampiezza della perturbazione e dipende in modo un po' più complicato dallo spettro, quindi dai modi, diciamo così, che vengono eccitati da queste perturbazioni. Di solito negli esperimenti la dissoluzione viene innescata, viene causata artificialmente, iniettando una certa quantità di gas, con quel meccanismo che viene detto Massive Gas Injection, o MGI. In questo modo si induce il thermal quench, questo raffredda il plasma e genera i runway. Quindi questo è un modo per simulare le disoluzioni. Oltretutto, se il campo perturbativo esterno, che è quello che viene applicato tramite questi RMPs, è abbastanza intenso, si osserva che questo è in grado di indurre isole magnetiche, quindi triggera, rende instabili delle isole magnetiche nel volume del plasma, e questo può costituire un altro meccanismo di controllo dei runway, perché se queste isole magnetiche si sovrappongono sufficientemente, possono generare strati stocastici, che quindi favoriscono la perdita di runway. Quindi sostanzialmente accelerando la perdita di elettroni runway, si impedisce che raggiungano energie molto elevate. Quest'immagine che è tratta da questa pubblicazione, mostra l'andamento temporale della corrente di plasma, KiloA, nel tempo. Questa è la fase di flat top, quindi dove la corrente è abbastanza costante. Qui, dove c'è questa zona tratteggiata, viene iniettato del gas tramite MGI, e questo innesca la dissoluzione. Quindi da qui in poi sostanzialmente il plasma diventa freddo e la corrente comincia a decrescere. Le diverse curve sono associate a diversi esperimenti, in cui è stata variata l'ampiezza degli RMPs, quindi delle perturbazioni, e come vedete più grande è la perturbazione, più in fretta decresce la corrente, e questo è associato a un effetto positivo sul controllo dei runway. Adesso l'argomento dei vari sottoquest, diciamo sottotask, che riguardano questo problema sarebbe troppo lungo e non ho certo intenzione di entrare nei dettagli qui, ma ve li voglio solo menzionare. Questi sono hot topics, quindi temi di ricerca molto attuali, che vengono condotti in vari lavoratori nel mondo, io qua ho menzionato solo quelli in Europa, perché sono quelli che conosco meglio. Per esempio il calcolo della funzione di distribuzione dei runway, che è un calcolo teorico complicato, che consiste nel risolvere l'equazione cinetica in diverse circostanze, in diversi limiti. Oppure i meccanismi di generazione, quindi i tre principali che vi ho menzionato, quali sono le soglie, come si possono simulare gli esperimenti tramite le teorie, e questi studi vengono fatti soprattutto a Gothenburg, alla Chalmers University, c'è un gruppo molto valido che fa questo genere di cose. Dopodiché esiste lo studio sulla diffusione dei runway, quindi il trasporto di runway e come questo dipende per esempio dalla presenza di perturbazioni magnetiche, che possono causare appunto la presenza di isole magnetiche, che possono intrappolare i runway, oppure regioni stoccastiche che possono aumentare, quindi accelerare la perdita di runway. Questo viene fatto ancora dalla Chalmers University, dal punto di vista teorico, oppure dal punto di vista sperimentale ci sono studi a Garching in Germania, nel Tokamak Azdex Upgrade, oppure a Praga nel Tokamak Compass. Altri studi riguardano il controllo della posizione verticale, quindi la stabilità verticale del beam di runway. Questo viene fatto per esempio a Lausanne, al Ecole Polytechnique, dove hanno un Tokamak a configurazione variabile, che quindi è possibile variare proprio la forma del plasma, oppure a Praga, sempre a Compass, oppure in Regno Unito, quindi a Callum in Inghilterra, nel Tokamak Jet. Dopodiché c'è lo studio della radiazione di sincrotrone, per quello che vi ho detto, che quindi è un meccanismo di frenamento dei runway, ed è anche un meccanismo per vedere il beam. È una sorta di firma della presenza del beam di runway. Questo viene fatto sia dal punto di vista teorico che sperimentale, di nuovo alla Chalmers University, a Gothamur, oppure a Praga, dal punto di vista più sperimentale, nel Regno Unito, quindi nel Jet, e in Italia nel Tokamak FTU di Frascati. Poi c'è lo studio sulle meccanismi di mitigazione o soppressione, tramite per esempio gas puff, quindi iniezione di gas, uso di perturbazioni risonanti, RMPs, o pellet, che sono sostanzialmente proiettili di gas solido congelato, che hanno lo stesso effetto del gas, quindi aumentano la densità, però lo fanno in maniera più mirata. E questo viene fatto praticamente dappertutto, perché i meccanismi di mitigazione sono tra i più importanti proprio per il controllo del beam. E infine, un argomento più recente, più di nuova introduzione, è l'interazione delle onde elettromagnetiche, eventualmente, con il fascio di Runaway. Per quanto riguarda la loro generazione, e anche l'effetto che può avere nel mitigare il beam, quindi ridurre la sua energia. Questo è stato fatto a Gothenburg, quindi al solito Charles Ness University, vabbè qui ho dimenticato di aggiungerlo a Lausanne, dal punto di vista sperimentale, quindi nel Tokamak TCV, a Praga, e anche a Frascate. Quindi c'è molta attività e oltretutto queste cose vengono fatte ovviamente anche da altre parti nel mondo, quindi negli Stati Uniti, in Russia e così via. Per concludere, volevo solo darvi un'idea più pratica di cosa questi Runaway sono in grado di fare, quindi quanto sono pericolosi questi Runaway, che danni possono comportare. Vi mostro due esempi, tratti uno dal Tokamak Compass a Praga e uno dal Tokamak Jet a Callam in Inghilterra. Sono molto diversi perché Compass è un Tokamak piccolo, che ha una corrente di plasma limitata circa a 400 kA, quindi 0,4 MA, e le energie dei Runaway che si possono ottenere sono inferiori a 15 o 20 MV, che sono comunque grandi, però sono relativamente piccole. E queste immagini che vi mostro sono l'effetto di un beam di Runaway che è sfuggito al controller e ha urtato le pareti del Tokamak. In Compass quindi c'è queste due tracce, venne riportate anche da un'immagine, un riferimento per capire quanto sono grandi, questi sono un centimetro, e Suggetto invece che è una macchina molto più grande, che ha correnti di plasma che possono essere alcuni MA e energie che possono raggiungere abbondantemente i 20 MV, l'effetto è molto più visibile, fate conto che questi quadratini sono delle piastrelle di metallo, credo di molibdeno, e in parte sono state fuse, quindi c'è questa sorta di splash di goccia che si osserva per esempio quando uno effettua una saldatura. Quindi gli elettroni Runaway hanno questo effetto di fondere localmente il metallo e danneggiare quindi tutte le strutture. In ITER, che è questo Tokamak sperimentale, questo diciamo reattore sperimentale che era costruito nei prossimi decenni, abbiamo correnti che possono raggiungere i 15 MA, quindi molto più grandi, e le energie dei Runaway possono essere maggiori di 50 MV limitate dalla radiazione di sincrotrone, che è importante per queste energie. Quindi abbiamo a che fare con valori molto più grandi e l'energia del BIM prevista per questo tipo di scenario va nell'ordine dei centinaia di megajoule, che sono una quantità di energia notevole, che possono comportare gravi danni alle pareti, quindi possono fondere agevolmente le piastrelle che costituiscono la parete e eventualmente anche bucarla. E nel caso di questo ordine di grandezza non vi dica molto, centinaia di megajoule, considerate che ho notato, che ho letto, che questo è dello stesso ordine dell'energia del BIM di protoni dentro LHC, cioè il Large Hadron Collider. Il fatto che le ordine di grandezza siano simili è dovuto al fatto che l'energia dei protoni in LHC è molto più grande di così, però l'intensità del fascio è molto più piccola, perché in LHC abbiamo veramente una piccolissima quantità di protoni che viaggiano a velocità molto vicina a quella della luce, qui abbiamo elettroni che sono molto più lenti, però ne abbiamo una quantità molto molto maggiore, perché abbiamo correnti appunto dell'ordine di 15 MHz. Quindi i numeri si compensano, abbiamo una cosa dello stesso ordine. E ricordo anche che questo stesso ordine di grandezza è paragonabile, per esempio, a un'auto da corsa che va a grande velocità, per esempio una Ferrari che viaggia a 400 km all'ora, oppure a un carro armato che viaggia forse a 100 km all'ora, o forse 60 km all'ora. Comunque si parla di energie che possono essere confrontate con oggetti macroscopici di grande massa che si muovono anche a velocità sostenute, e quindi questo ci dà l'idea di quanto siano pericolosi in effetti questi ratermi. Quindi questo è quanto, questo conclude più o meno l'introduzione che volevo darvi a questo argomento, questo overview, senza nessuna pretesa di entrare nei dettagli. È un argomento molto interessante ma anche molto difficile, perché è molto tecnico, molto specifico. Eventualmente se volete vi lascerò, per coloro che sono interessati, lascerò il riferimento, quindi il link a qualche overview, qualche articolo di review, per esempio, che fornisce una panoramica della questione, però tenete conto che sarà comunque un articolo scientifico, quindi sarà abbastanza tecnico. Detto questo, questo è un argomento, come vi ho detto, che è molto importante, di grande interesse per la ricerca nella fusione, perché questi elettroni runaway minacciano veramente di essere un grave ostacolo per la fusione. Qualora il BIM raggiungesse grandi energie in ITER e sfuggisse al controllo, potrebbe davvero danneggiare la macchina. Quindi tutta l'attenzione, tutti gli sforzi ora sono dedicati a cercare di controllare e mitigare questi BIM di elettroni. Quindi c'è grande interesse in questo, io ci sto lavorando su diversi aspetti e quindi speriamo di riuscire a risolverlo. Detto questo, spero che l'argomento vi sia piaciuto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao, ciao!